Mi scappa, mi scappa, mi scappa, non può scapparmi, 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 non può scapparmi Attenzione, questa sarà un'intervista fitness, come ti chiami? Gaia Come non l'ho capito, scusa, ho il fiatone Gaia Gaia, benvenuta, da dove vieni? Da dove vengo? Da Milano Milano, bellissima città, come ti senti? Benissimo Ok, riposo, riposo, un minuto di riposo, poi ripartiamo con la seconda serie La bronza, sì, ma noi lo facciamo apposta perché così anticipiamo l'estate, arriviamo già pronti all'estate Sei qui per il tuo Dio al Nubilato? Sì Perfetto, con chi ti sposi e quando? Il 2 giugno con Roberta Roberta? Perfetto, fantastico, nella vita cosa fai? Nella vita faccio, lavoro nel marketing Ah ok, no scusa, credevo avessi detto uno scherzo perché era un nome finto No no, bellissimo, ok aspetta, 3, 2, 1, seconda serie, vai Perfetto, allora lavorando nel marketing che ti tieni anche in forma, vai a correre in Parco Sempione? Eh, sempre in Parco Sempione È bello Parco Sempione? Bellissimo Fantastico, allora salutiamo perché se no la regia ci fa venire, le dice che gli facciamo venire la valla Ragazzi a presto e attenzione a questa ragazza che è in formissima stasera Buona serata, ciao! Ragazzi a presto! Ragazzi a presto! Grazie a tutti.